Ciao a tutti e benvenuti a Brutte Storie dove vi parlo di storie brutte e quella di oggi è particolarmente brutta. Per chi non mi conosce, ciao, io sono Clara Campi, sono una stand-up comedian ma sono anche una grandissima appassionata di true crime e quindi ogni due settimane vi parlo di qualche storia inquietante. Oggi parliamo di John e Lorena Bobbitt. Molti di noi chiaramente hanno già sentito parlare di Lorena Bobbitt ma ho notato che non tutti hanno proprio tutti i dettagli quindi vediamo di scoprirli insieme. Iniziamo con l'infanzia di John. John Wayne Bobbitt con questo nome da star del cinema che però a me ricorda molto di più i killer clown John Wayne Gacy. Comunque John Wayne Bobbitt nasce nel 67 in una famiglia non propriamente ideale. Pare che i genitori avessero una relazione abusiva e il padre se n'è andato quando lui era piccolo e non è più tornato. La madre nel frattempo continua ad avere relazioni abusive. John dice che da piccolo ha anche assistito a lei che veniva stuprata da dei vicini di casa. Insomma una situazione non bella e ha anche problemi sia di alcolismo che di tossicodipendenza. Quindi ad una certa John e suo fratello vanno a stare dagli zii e all'inizio la loro madre andava a trovarli ma mano a mano anche lei ha smesso di farsi vedere. Mentre era con questi zii pare che John venga molestato da un altro zio. Non ha particolari dettagli perché l'unico che parla di queste cose è John stesso e lui non scende in dettagli. Quindi comunque non ha avuto un'infanzia facile questo povero ragazzo. Poi crescendo decide di arruolarsi nei marines e lui dice che la sua motivazione è perché anche degli altri suoi amici si stavano arruolando nei marines e quindi è andato anche lui. Invece nel 1969 in Ecuador nasce Lorena Gallo. Io ero indecisa sulla pronuncia del cognome perché per istinto avrei pensato che si chiamasse Gaio essendo ecuadorenia però tutti la chiamano Gallo in qualsiasi intervista documentario che abbia mai visto e lei non li corregge. Quindi Lorena Gallo nasce in Ecuador e poi quando lei è piccola la sua famiglia si trasferisce in Venezuela e Lorena ha sempre avuto la fissa per gli Stati Uniti. Lei guardava il più possibile programmi americani, era fissata con le soppopera e quando arriva il periodo di organizzare la sua quinsaniera, se non sapete cos'è la quinsaniera? È il quindicesimo compleanno di una ragazza che quindi diventa donna diciamo e gli viene fatta un'enorme festa. Quindi quando sta per arrivare la sua quinsaniera e i suoi genitori non avevano abbastanza soldi per farle una festa come andava fatta, Lorena propone di non fare la quinsaniera ma di utilizzare quel denaro per fare un viaggio negli Stati Uniti. E a me questa cosa che un viaggio negli Stati Uniti costa meno di organizzare una festa mi lascia sempre sconvolta. Comunque i genitori accettano, Lorena fa questo viaggio negli Stati Uniti e decide che lei vuole vivere negli Stati Uniti. Quando ha 18 anni ottiene un permesso da studente e va a vivere a Manassas in Virginia, che è una scelta un po' strana per uno straniero che va negli Stati Uniti, di solito va in California, vai a New York, non va in Virginia. C'è un motivo, c'erano dei parenti di Lorena in Virginia e quindi lei va a stare con loro. Lorena ha avuto un'infanzia molto 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 cattolica, la famiglia è estremamente cattolica e anche questi parenti in Virginia lo sono, per cui quando lei inizia a interessarsi ai ragazzi non le è permesso andare agli appuntamenti da sola, deve sempre avere uno chaperon, quindi deve sempre avere qualcuno che venga con lei agli appuntamenti, uno che regga il moccolo insomma. Nel 1988 Lorena partecipa ad una festa della Marina Militare e incontra John Wayne. I due si piacciono subito, ballano insieme e iniziano a frequentarsi, però appunto c'era questo problema che Lorena non poteva uscire da sola con John, quindi John inizialmente accetta la cosa e esce con gli amici, però poi a una certa decidono di sposarsi solo per poter stare un po' insieme e quindi un anno dopo nell'89 si sposano. John sostiene che Lorena volesse sposarsi per avere la green card, quindi per poter rimanere negli Stati Uniti, che secondo me era comunque un elemento e sostiene che sia stata lei a chiedere a lui di sposarlo, invece Lorena dice che è stato lui a chiedere a lei di sposarlo, tra l'altro una storia malatissima dove erano in piscina e John ha trovato in piscina un anello di qualcun altro e l'ha usato per farle la proposta, quindi comunque una cosa tristissima. Ora entrambi dicono che è stato l'altro a chiedere di sposarsi, non si sa come è andata veramente la storia, in ogni caso si sposano. Tra l'altro nel periodo appunto del corteggiamento col fatto che non riuscivano mai a stare da soli c'erano spesso degli amici di Lorena che testimoniano di come John si dimenticasse sempre a casa il portafoglio quando uscivano e che Lorena pagava allegramente. Io inizio a dirvelo perché poi tutto torna in questa storia. Comunque finalmente si sono sposati, finalmente possono stare da soli. Che cosa può andare storto? Tutto, tutto perché John beveva molto e da subito inizia ad essere abusivo con Lorena, la tratta male, la insulta e mano a mano inizia anche a metterle le mani addosso. Lorena descrive la prima volta che John l'ha picchiata ed è stato una volta che erano usciti a bere con il fratello di John e mentre stavano tornando a casa John che era alla guida della macchina era completamente ubriaco e stava guidando molto velocemente zigzagando. Lorena era terrorizzata, le chiede di fermarsi e allora poi dopo prende il volante perché lui stava zigzagando troppo e quando lei mette la mano sul volante John reagisce tirandole un pugno nel petto e poi continua a colpirla mentre guida ubriaco. In tutto questo il fratello è seduto dietro e non interviene, anzi Lorena dice che ha tipo annuito a John approvando del fatto che lui la stesse picchiando. A questo punto John viene licenziato dai Marine, non so qual è la parola giusta però comunque viene licenziato e si ritrova a casa senza un lavoro e non riesce a trovarne un altro o meglio secondo Lorena lui non stava neanche cercando un altro lavoro, stava lì a casa a bere e basta e quindi Lorena si ritrova ad essere l'unica della coppia che lavora e lei non è che faccia un lavoro per cui guadagna tanto, lei fa la babysitter quindi comunque i soldi sono pochi. Disperata per i soldi ne parla con la sua dattrice di lavoro, quella a cui lei teneva i bambini, che aveva dei negozi di manicure, estetista e cose di questo tipo e quindi lei assume Lorena come manicureist e a questo punto la capa di Lorena che si chiama Jenna Bisutti la prende un po' sotto l'ala protettrice e diventano molto amiche, diventano amiche al punto che ad un certo punto Lorena le ruba dei soldi dalla cassa perché non riesce ad arrivare a fine mese e Jenna la perdona quindi sicuramente c'è un legame importante tra di loro. Lorena però non ruba solamente dalla sua capa, ruba anche nei negozi perché appunto diceva che non riusciva ad arrivare a fine mese anche se lei rubava dei vestiti che quindi non ha tanto senso nella storia, però lei sosteneva che John la prendeva in giro per come si vestiva, diceva che non si vestiva bene, che aveva dei vestiti orribili e quindi lei l'ha fatto per lui. Comunque tra loro due la situazione degenera sempre più velocemente perché John spesso vuole fare sesso e Lorena no e quindi John la violenta. Tra l'altro visto che vi piacciono i particolari più originosi e lo so che vi piacciono, John era anche fissato con il sesso anale che Lorena non voleva assolutamente fare anche perché ricordiamoci Lorena viene comunque da un background estremamente estremamente cattolico e anche bigotto possiamo dire, non aveva mai avuto esperienze sessuali prima di John e John è stato il suo primo e tra l'altro da quello che ho capito guardando le interviste a loro due, guardando i milioni di documentari che ci sono, sembra proprio anche che John fosse un uomo senza il concetto dei preliminari, cioè non sapeva neanche cosa fossero e quindi insomma Lorena era una ragazza inesperta, non le piaceva molto questo tipo di approccio sessuale ma John se n'è sempre altamente fregato e ha sempre fatto quello che voleva lui. A volte anche proprio picchiando Lorena per costringerla a cedere. Lorena non sa bene come comportarsi però col fatto che inizia a mostrare sempre più spesso lividi, i vicini di casa, la sua dattrice di lavoro e anche tante delle clienti notano questa cosa e iniziano a cercare di aiutarla. Una vicina di casa ad esempio le lascia degli opuscoli sulla violenza matrimoniale, sugli abusi in famiglia e sulle risorse a cui fare riferimento. Nel 1991 succede una cosa terribile, cioè Lorena resta incinta e voi direte non è una cosa terribile, è normale, sono sposati, poi in più lei è cattolica quindi si immagina che avesse l'idea di fare una famiglia, non è strano, ecco. Solo che John non voleva il bambino e qui c'è un twist un po' inquietante perché pare che Lorena avesse smesso di prendere la pillola senza dirlo a John e ora io dico subito che questa cosa non va bene, non è accettabile perché io supporto il diritto della donna di scegliere se avere una gravidanza e quindi di conseguenza anche l'uomo deve poter scegliere. Quindi è vero che erano sposati, è vero che John avrebbe dovuto sapere che Lorena voleva una famiglia però se veramente è andata così che lei ha smesso di prendere la pillola senza dirlo a lui questa cosa non è ok. Comunque lui la prende malissimo e le dice che deve abortire. Chiaramente Lorena non ha nessuna intenzione di abortire ma John la minaccia e le ricorda che senza di lui lei non avrebbe il permesso di soggiorno per gli Stati Uniti e le dice che se lei avesse fatto una cosa del genere lui avrebbe divorziato e avrebbe fatto in modo di farle ritirare la green card. Quindi Lorena si trova costretta ad abortire che era una cosa che lei chiaramente non voleva fare. Dopo questo episodio non è che le cose possono improvvisamente migliorare, no continuano a peggiorare, il rapporto si fa sempre più violento, Lorena non ne può più ma non sa bene cosa fare. Inizia a valutare l'ipotesi del divorzio o almeno così dicono le sue amiche John in realtà dice che è stato lui a proporre il divorzio ma lei gli ha detto no assolutamente no perché è contro la religione. In questo caso in particolare non so a chi dei due credere perché allora di base nessuno dei due è una persona particolarmente credibile, se bisogna scegliere Lorena sembra decisamente più credibile di John, se guardate delle loro interviste capirete perché però per questa cosa in particolare non so esattamente come sia andata. I vicini sapevano benissimo che loro due non avessero una relazione sana perché li sentivano spesso gridare e insomma intuivano che John la picchiasse e quindi hanno spesso chiamato la polizia per intervenire. A dirla tutta la polizia è stata chiamata da diverse persone, a volte dai vicini, a volte da Lorena e a volte da John perché pare che anche Lorena fosse violenta e io questo non lo metto in dubbio però Lorena basta guardarli nelle foto pesa tipo la metà di John ed è una donna. John comunque è un ex marine quindi se John picchia Lorena fa molto più male che se Lorena picchia John ok quindi non metto in dubbio che anche Lorena fosse violenta però la violenza aveva ripercussioni diverse. Nel giugno del 1993 Lorena convinta dalla sua dattrice di lavoro e da alcune clienti del salone di bellezza va a denunciare John perché non ne può più, John è sempre più violento, John la stupra quasi giornalmente e lei non sa più dove sbattere la testa. Tuttavia per lei è molto difficile parlare della sua vita sessuale anche se in questo caso stiamo parlando più che altro di violenze più che di vita sessuale però appunto lei aveva questa impostazione abbastanza bigotta per cui era molto difficile per lei parlare di queste cose anche alla polizia. Comunque raccoglie il coraggio per farlo, va, dopo che racconta tutto le dicono che deve tornare tra circa tre ore perché bisogna metterlo a verbale e quindi quando lei realizza che deve di nuovo raccontare tutte queste cose intime di cui lei si vergogna decide di andarsene e rinuncia a denunciare John e questa non è stata una buona scelta perché il giorno dopo Lorena di nuovo litiga con John, questa volta perché John si era portato a casa un suo amico che aveva deciso che doveva vivere lì e Lorena non ne sapeva niente quindi giustamente a lei non sta bene avere in casa uno che non conosceva. John si arrabbia, prende il suo amico e vanno fuori a bere. John dice che non hanno bevuto molto, un paio di birra e forse uno shot però è il suo amico stesso a contraddirlo, dice che erano ubriachi a bestia. Comunque tornano a casa ubriachi, John ubriaco va a letto e qui ci sono due versioni diverse della storia. John dice che è andato a letto e che dopo un po' è arrivata lì Lorena e che si sono un po' coccolati e poi lui si è addormentato. Questa è la versione di John. La versione di Lorena è che lui l'ha brutalmente violentata. Comunque qualcosa succede, John poi quando ha finito di fare quello che stava facendo si addormenta e Lorena è arrabbiatissima ed è anche disperata perché non sa come uscire da questa relazione, si sente in gabbia. Quindi si alza dal letto, va in cucina a prendersi un bicchiere d'acqua e a questo punto, dice lei, nota un coltello in cucina. E qua devo inserire un trigger warning soprattutto per gli uomini perché sta arrivando la parte più brutta di questa bruttissima storia. Lorena afferra il coltello, torna in camera dove John sta dormendo, prende il suo lo posso dire cazzo su youtube? Si lo dico sempre, ok? Prende vabbè il suo pene in mano, nell'altra mano ha il coltello e lo recide con un taglionetto. Tra l'altro un taglionetto ed è positivo che sia stato un taglionetto, poi spieghiamo perché. Comunque taglia il pene e John chiaramente si sveglia ma è talmente ubriaco che non capisce che cosa sta succedendo. Quindi non capisco nemmeno perché lui sostenga di non essere ubriaco quella sera perché se non fossi stato ubriaco ti saresti accorto che ti era successa una cosa terrificante. Comunque Lorena con ancora l'appendice in mano va via, sale in macchina e inizia a guidare e anche lei non sapeva dove stava andando. Lorena sostiene di avere un totale blackout, lei non si ricorda di averlo tagliato e non si ricorda i momenti successivi a questa cosa. Comunque va in macchina in una mano al coltello, nell'altra cosa? Ha il pene reciso di John e ok va bene. Scusate se rido ma rido perché è una storia allucinante chiaramente non è che sto sfottendo anche perché stiamo parlando di mutilazione c'è ben poco da sfottere. È solo allucinante. Comunque a questo punto John inizialmente pensa di essersela fatta sotto perché sente il bagnato. Poi capisce che sta sanguinando, cerca di fermare il sangue con un asciugamano e va a svegliare il suo amico che era lì, che in tutto questo non si è svegliato e gli dice ascoltami devi portare all'ospedale. Il suo amico dice sì ti porto aspetta che prima mi lavi i denti. Che io la capisco la cosa di volersi lavare i denti prima di uscire di casa è giustissimo però insomma c'è in ballo un'emergenza ma probabilmente stava dormendo, era ubriaco anche lui, non se n'era reso conto e John stesso non se n'era veramente reso conto. Comunque arriva in ospedale e medici e infermieri sono assolutamente sconvolti da questa cosa. Viene convocato l'urologo che era a casa a dormire chiaramente perché a questo punto erano circa le 4 le 5 del mattino quindi chiamano l'urologo per cercare di capire cosa si possa fare e l'urologo dice che se trovano l'appendice può tentare di riattaccarla ma altrimenti avrebbe dovuto operare in modo da non fare morire John che a questo punto aveva già perso un terzo del sangue quindi bisognava comunque intervenire e allora dall'ospedale chiamano la polizia per chiedere loro di andare a cercare il pisello di John. A quel punto la polizia deve cercare il pene quindi vanno in casa di John e Lorena che a questo punto è vuota perché sono andati via tutti e due e si mettono a cercare in giro tra l'altro cercano anche tipo nella lavastoviglie, nella spazzatura, non sanno dove è finito giustamente perché non hanno elementi per dedurre dove sia. Intanto Lorena era andata al lavoro e come vi ho detto erano tipo le 5 del mattino quindi era chiuso il salone e non trovando nessuno dopo un po' va invece a casa di Jenna, la sua capa, e le dice che cosa è successo. Jenna allora giustamente dice di chiamare la polizia, la polizia viene chiamata, Lorena viene interrogata, lei confessa subito, dice sì sono stata io ma non mi ricordo che cosa è successo. A quel punto la polizia ha come unico focus quello di ritrovare il pene di John e quindi cerca di farselo dire da Lorena che non si ricorda bene ma si ricorda che ad un certo punto si trovava scomoda a guidare con un pene e un coltello in mano e che quindi ha lanciato il pene fuori dal finestrino più o meno all'altezza del 7-11. Il 7-11 è tipo il Quickie Mart dei Simpson quindi uno di quei mini supermercati dove hanno anche le riviste, gli hot dog e quelle cose lì che sono aperti 24 ore su 24. Quindi la polizia va lì e vanno un sacco di agenti a cercare disperati questo pene finché in mezzo all'erba che tra l'altro era un'erba alta che arrivava fino al ginocchio quindi immaginate che incubo cercare una cosa così piccola lì. Tra l'altro questo pene era particolarmente piccolo e io lo so che ora mi accuserete di body shaming per averlo detto ma è un dato di fatto e poi questa cosa ritornerà nella storia quindi inizio a buttarvela lì. Iniziano a cercarlo finché ad un certo punto un poliziotto per sbaglio lo schiaccia col piede, per fortuna guarda che cosa ha schiacciato ed era il pene. A quel punto devono portarlo all'ospedale però il poliziotto che l'ha trovato non lo vuole toccare che anche questa è una cosa ridicolissima però non lo voleva toccare per motivi religiosi. Va bene. Comunque qualcuno lo prende e entrano al 7-eleven per chiedere ovviamente una borsa con del ghiaccio quindi lo mettono nel ghiaccio e lo portano all'ospedale. E a questo punto l'urologo fa il miracolo incredibilmente riesce a riattaccare il pene di John e sa subito che l'operazione è stata un successo perché riesce subito a riconnettere l'uretra quindi per quella cosa lì funziona e spera che riuscirà a funzionare anche per l'altra cosa. L'operazione è andata correttamente quindi tecnicamente John dovrebbe essere in grado di riprendere a breve tempo tutte le funzioni del pene però l'unico modo per saperlo è aspettare e vedere. Chiaramente nel giro di poco la stampa inizia a parlare di questo caso e iniziano a parlarne veramente veramente tutti. Si forma il classico circo mediatico tutti ne parlano in televisione costantemente tutti i comici fanno battute su questo caso tra l'altro molto bello quello di Whoopi Goldberg forse si trova da qualche parte online che è forse l'unica prospettiva femminile in questa vicenda perché tutti gli altri comici che hanno parlato di questo fatto erano uomini e quindi la vedevano dalla prospettiva dell'uomo che viene privato della sua virilità che deve essere una cosa terribile. Io parlando di questo caso spesso trovo persone che dicono ah è ridicolo che la polizia si fosse impegnata così tanto per ritrovare un pisello cioè solo un pisello non è che era morto. Io non concordo con questa cosa scusate cioè secondo me è giusto e normale che un uomo se la prenda male se gli tagliano il pisello cioè non ha senso dire non è la peggior cosa che ti possa succedere non è vero è la peggior cosa che ti possa succedere magari non per tutti no dipende dai punti di vista però per una persona come John era veramente devastante però effettivamente anche a me ha dato un po' fastidio pensare che ci sia stata tutta questa mobilitazione per un uomo che ha subito una terribile amputazione però a nessuno frega nulla delle mutilazioni genitali femminili che continuano ad avvenire tutti i giorni e che è la stessa cosa perché comunque stai privando una bambina di provare piacere sessuale per il resto della sua vita quindi effettivamente mi dà un po' fastidio che per un uomo singolo si sia mobilitato tutto il mondo e per centinaia di migliaia di bambine chi se ne frega però vabbè questo comunque non c'entra cioè sto poveretto per quanto fosse una persona pessima e poi lo analizziamo meglio non si meritava di essere mutilato in quel modo a fin lì non credo di essere meno femminista se dico una cosa così mi sembra ovvio a questo punto i due devono essere processati e dico i due perché Lorena chiaramente deve essere processata per la mutilazione che ha effettuato ma anche John viene processato per violenza domestica il primo dei due processi a svolgersi è quello di John per i maltrattamenti in famiglia e in questo processo non è permesso alle telecamere dei media di entrare mentre invece lo sarà permesso in quello di Lorena e in questo processo effettivamente Lorena sembra una pazza furiosa e John sembra un pochino la vittima della situazione in particolare c'è un dettaglio che effettivamente lascia perplessi su Lorena cioè lei sosteneva che John durante uno stupro le avesse strappato le mutandine e aveva portato le mutandine strappate come prova solo che poi analizzate queste mutandine risulta che lo strappo fosse ottenuto facendo un taglio al lato della mutanda e poi strappando a mano un taglionetto da una forbice e cioè non è che John per strapparle le mutande mentre sta cercando di violentarla dice aspetta che prendo la forbice faccio il taglietto le strappo no quindi è probabile che questa sia stata una prova fabbricata da Lorena ed è un po' inspiegabile questa cosa perché alla fine cioè Lorena aveva diverse testimonianze dei vicini di casa così del fatto che John fosse violento con lei quindi non c'era proprio bisogno di fabbricare una prova anche perché chiaramente la cosa le si è rivoltata contro e John viene giudicato non colpevole tra l'altro poi i suoi avvocati difensori hanno sostenuto che era impossibile che John mentisse perché era troppo stupido per mentire io direi grazie avvocati state molto aiutando la mia autostima comunque questa era la teoria degli avvocati in realtà John non sembrava dire proprio tutta la verità perché a volte si contraddiceva appunto lui inizialmente sosteneva che quella notte lui non avesse stuprato Lorena poi dopo dice che probabilmente l'ha stuprata mentre dormiva perché lui era affetto da sonnambulismo e lo sanno tutti che se uno è sonnambulo la prima cosa che fa è stuprare la prima persona che incontra chiaro comunque nonostante tutto John viene trovato innocente anche se decisamente non lo era comunque a questo punto arriva il momento del processo di Lorena gli avvocati di John gli dicono che mentre si aspetta che inizi il processo Lorena lui non deve assolutamente farsi intervistare sempre per il fatto che appunto i suoi avvocati non lo ritengono proprio un fulmine di guerra e quindi lo mandano in un ranch a stare coi cavalli e queste cose lì e gli dicono assolutamente non parlare con i media non farti intervistare niente se non che in un locale chiamato Uters che è una catena e forse lo conoscete c'è anche una puntata di South Park che fa la parodia di Uters comunque in uno di questi locali viene organizzato un concorso di sosia di John Wayne Bobbitt e allora John decide di andare chiama il suo avvocato gli dice senti io vado perché secondo me ad un concorso di me sosia potrei vincere e un sacco di gente usa questo aneddoto per dire che John era proprio scemo a merda e allora John sì no non è molto brillante però vabbè questa era chiaramente una battuta lui non è che voleva andare per vincere il concorso voleva andare per farsi notare perché insomma un concorso dedicato a lui si presenta a lui a sorpresa attira un sacco l'attenzione i suoi avvocati gli dicono di non andare ma lui va lo stesso e questa è solo la prima delle cose stupide che John farà per voglia di farsi vedere o forse per voglia un po di rivalsa contro Lorena contro la società contro la vita di merda che ha avuto non lo so il processo a Lorena Bobbitt avrebbe dovuto svolgersi nel dicembre del 1993 tuttavia viene fatto un ragionamento super cinico e cioè che trasmettendo un caso del genere sotto natale si rischiava di avere meno audience perché non è proprio una storia per famiglia insomma poi le festività andare a trovare i parenti così uno non ha tempo di stare troppo a guardare la televisione e allora lo spostano a gennaio del 1994 in questo processo è permesso ai media entrare e filmare e diventa di nuovo super circo mediatico e scatena una vera e propria guerra tra sessi perché ricordiamoci John dal suo processo era uscito innocente perché nello stato della Virginia in quel periodo non era previsto lo stupro tra persone sposate cioè in un matrimonio non ci può essere sesso non consensuale perché tu hai dato il consenso quando hai sposato con la persona e molti dicevano che era un diritto dell'uomo che già questa frase mi fa ridere perché se vuoi sostenere una roba del genere che già non ha senso però almeno di è un diritto dei coniugi che cazzo vuol dire un diritto dell'uomo cioè non è che il sesso esiste solo per gli uomini la vogliamo capire questa cosa no perché non l'abbiamo ancora capita a Lorena viene proposto un plea deal quindi viene proposto un accordo di patteggiamento e le dicono che se lei si dichiara colpevole e ammette di aver premeditato il fatto sarebbe stata condannata solamente a quattro mesi di carcere e ora voi direte beh l'ha accettato l'accetterebbe chiunque un deal del genere anche perché il rischio era di farsi vent'anni di galera facendo il processo però Lorena rifiuta e rifiuta per un motivo in particolare se fosse stata condannata non sarebbe mai potuta diventare cittadina degli stati uniti e questo per lei era la cosa più importante quindi lei preferisce rischiare di farsi vent'anni pur di non perdere la possibilità di restare a vivere negli stati uniti a questo punto quindi gli avvocati puntano tutto sull'infermità mentale temporanea nel senso puntano tutto sul fatto che Lorena abbia avuto un raptus parola odiatissima e spesso abusata però è quello no quando hai un momento in cui perdi completamente il controllo e che quindi non l'abbia assolutamente premeditato e non fosse in se stessa nel momento in cui l'ha fatto Lorena viene dichiarata non colpevole per temporanea infermità mentale e dovrà semplicemente trascorrere 45 giorni in un istituto psichiatrico per accertamenti sul suo stato mentale che mi sembra assolutamente giustissimo e questa è la storia di John e Lorena Bobbitt no sto scherzando c'è un sacco di altra roba allora la storia di per sé è finita però queste due persone chiaramente continuano a vivere e fare cose e mentre Lorena alla fine semplicemente decide di tornare all'università conosce un uomo David con cui è ancora insieme e con cui ha avuto una figlia e bene o male dedica la sua vita ad associazioni che si occupano della violenza domestica e di donne maltrattate John ha avuto una vita molto più movimentata allora siamo rimasti al fatto che gliel'hanno riattaccato ma non si sa se funzionerà fino in fondo funziona funziona al punto che John fa un film porno che ovviamente si chiama John Wayne Bobbitt uncut e John Wayne Bobbitt uncut non è l'unico film porno che farà John ne farà diversi perché inizia a collaborare con Ron Jeremy tra l'altro ho visto degli spezzoni di alcuni film e trovo che sia molto crudele farlo lavorare vicino a Ron Jeremy perché come vi ho accennato prima John di suo non era particolarmente dotato poi in seguito all'operazione forse anche perso qualche centimetro e quindi comunque non è il classico pene che vedi in un film porno e John è stato in realtà biecamente sfruttato da queste persone perché chiaramente tutti hanno comprato noleggiato quel film per una questione di curiosità morbosa non perché lui fosse questo grande porno attore perché non lo è si vede anche che è proprio a disagio poi il suo pene funziona ma non benissimo c'è qualche problema di erezione che è comunque un miracolo è quell'urologo bravissimo e quindi boh mi sembrava mi fanno un po' tristezza il film porno con John perché si vede che lui è a disagio non si sta divertendo e si sta facendo sfruttare da queste persone collabora anche regolarmente con Howard Stern che non so se lo conoscete ma è uno che fa radio negli Stati Uniti da decenni è famosissimo che organizza una speciale serata di capodanno che è una raccolta raccolta fondi per John e voi direte ci sta tutto fare la raccolta fondi per John perché negli Stati Uniti la sanità è privata e l'operazione a cui si è sottoposto costava tantissimo sì tranne che John aveva dichiarato bancarotta proprio per non pagare i costi di quell'operazione quindi gli hanno fatto un'operazione perfetta e nessuno è stato pagato e questo galà di beneficenza dedicato a John serviva per pagare un'altra operazione cioè quella di allungamento del pene e sono stati raccolti quasi 200.000 dollari delle clip di questa operazione al pene vengono inserite nel film porno frankenpenis cioè frankenpene cioè frankensteinpene insomma e tra l'altro questa operazione non è andata proprio benissimo cioè sì l'ha reso più grosso ma l'ha reso deforme che già prima col fatto che era stato riattaccato non aveva proprio un aspetto molto smooth ecco però dopo quest'operazione beh effettivamente era un porno ispirato a un film horror quindi ci sta un'altra cosa che fa John è fondare una band che si chiama severed parts quindi parti tagliate via insomma qualsiasi cosa che fa John dopo quell'episodio riguarda il fatto che a lui è stato tagliato via il pene e che gliel'hanno riattaccato cioè praticamente la sua vita gira intorno a questo ad una certa inizia a collaborare con il bunny ranch quindi quello di playboy dove vai a vedere le ragazze che fanno striptease poi c'è un po' di prostituzione un po' di queste cose qua inizia a lavorare lì e inizia una relazione con una delle ragazze poi scappano insieme vanno a vivere insieme e qua si ricrea un pochino la stessa situazione che c'era con Lorena cioè John alla fine non lavora perché sì è vero ha guadagnato un sacco di soldi dal film porno ma è stato biecamente sfruttato a lui non arriva quasi nulla di questi soldi cioè ha fatto arricchire altra gente con questa cosa e quindi lui che cosa fa? Sfrutta la sua ragazza e fa pagare tutto a lei poi inizia anche con lei a diventare violento a stuprarla a mettere le mani addosso finché lei lo denuncia e ora John ha sempre mantenuto di essere innocente e che Lorena fosse una pazza furiosa e io non posso dire che Lorena non fosse un pochino fuori perché se guardate le interviste anche lei non è tutta a posto però John cioè l'hai fatto una seconda volta sei tu il problema ok e non si è limitato a farlo una seconda volta perché poi dopo il divorzio con questa ragazza se ne sposa un'altra e di nuovo si ricrea la stessa situazione quindi un periodo iniziale che ci sta dentro e poi mano a mano si riscivola di nuovo nella violenza negli stupri e in questo tipo di cose tra l'altro gli amici non di infanzia, gli amici d'adolescenza di John sostenevano che lui spesso parlasse del fatto che gli piaceva molto il sesso non consensuale quindi comunque era un po' una delle sue fisse poi tra l'altro una cosa atroce è che la terza moglie ha testimoniato che John quando la violentava le diceva sei mia, sei la mia nuova Lorena cioè in sostanza John non ha mai superato questa fissa per Lorena e continua a scriverle cioè tuttora John continua a scrivere a Lorena le manda tipo i biglietti a San Valentino le scrive delle lettere dicendo che non ha mai smesso di amarla e le ha anche chiesto di sposarsi di nuovo e tra l'altro poi John veramente non è furbo perché sulle lettere scritte a mano su carta dice a Lorena che se loro solo si risposassero avrebbero un sacco di attenzione dei media e potrebbero fare un sacco di soldi quindi niente, cioè John ormai vuol vivere la sua vita così lui vuole essere l'uomo a cui è stato tagliato il cazzo e gliel'hanno riattaccato cioè questo è il suo grande merito nella vita Lorena non risponde a queste lettere però le continua a ricevere e in un'intervista nel suo documentario che poi dopo tra l'altro vi consiglio perché è un documentario veramente molto esaustivo cioè lei che scherzando dice non riesco a farlo smettere io non gli rispondo lui mi continua a scrivere ma io che cosa devo fare? cioè già gli ho tagliato il cazzo più di così cosa devo fare? e c'ha ragione comunque appunto invece Lorena come vi dicevo adesso collabora con associazioni contro la violenza in famiglia e ha fatto un ottimo lavoro a ripulire la sua immagine perché lei alla fine era la pazza che ha fatto una cosa assurda cioè tagliare il pene a suo marito però appunto ha veramente preso il controllo della sua immagine cosa che John non è mai veramente riuscito a fare perché comunque nelle interviste sembra sempre un po' un poveretto alla fine mentre invece lei sembra una donna forte che ora crescendo ha acquisito consapevolezza di quello che gli è successo quindi lei ci fa più bella figura di lui in generale una cosa che vi può interessare è che mi sembra tipo l'anno scorso no un po' di più perché era prima di tutto sto casino del inizia per cino lo nominiamo comunque un anno e mezzo fa una cosa del genere Lorena è andata ospite al podcast di Amanda Knox io non so se voi lo sapete ma Amanda Knox anche lei ha ripreso in mano il controllo della sua immagine e ha questo podcast di True Crime e quindi ha avuto ospite in una puntata Lorena e dopo che si sono incontrate per quella puntata hanno dichiarato alla stampa che avrebbero fatto qualche progetto insieme poi come tutti sappiamo poi è successo quello che è successo e non c'è stato al momento un progetto con Amanda Knox e Lorena Bobbitt ma sappiate che potrebbe succedere l'unica cosa che mi lascia perplessa di questa nuova Lorena è che qualche anno fa lei ha avuto un'altra denuncia perché ha dato un pugno in faccia a sua madre quindi questa non è proprio la cosa che fai se sei proprio tanto a posto con la testa e niente ve lo dico soltanto per dovere di cronaca perché appunto adesso c'è c'è in atto una sorta di rilettura di questo caso perché quando è successo negli anni 90 come vi dicevo Lorena era la pazza col coltello la donna pericolosa ora dopo il me too e tutto c'è un po' una rilettura del caso in cui si vede che comunque Lorena veniva da una situazione di abuso e io sono molto d'accordo con questa rilettura però secondo me è sbagliato prendere le parti cioè non ha senso prendere le parti di Lorena o prendere le parti di John perché nessuno dei due ha ragione sono due persone che avevano entrambe torto sono due persone che non si sarebbero dovute incontrare e soprattutto John è una persona che avrebbe dovuto ricevere un aiuto un supporto psicologico che non ha ricevuto e che si è fatto sfruttare da tutti in ogni modo e che è talmente disperato che pur di avere di nuovo un po' di attenzione vorrebbe risposare la donna che gli ha tagliato il pene io spero che questa brutta storia di oggi vi sia piaciuta se volete aggiungere qualcosa scrivetemelo nei commenti ho cercato di parlare delle cose più interessanti ma di questo caso se ne potrebbe parlare per ore e ore e ore quindi non ho potuto inserire proprio tutto però se volete aggiungere qualcosa fatelo qui nei commenti se volete approfondire questo caso io direi che il primo step è guardarsi la miniserie su Amazon Prime che si chiama Lorena sono dei documentari è a puntate non ricordo se sono 4 o 5 puntate è super interessante va detto che Lorena è parte della produzione di questo documentario ma ciò nonostante non è un documentario di parte perché intervistano molto anche John tirano fuori tutto anche le cose che non andavano bene di Lorena quindi non è un documentario che santifica Lorena e demonizza John anzi secondo me è molto equilibrato e vi consiglio caldamente di guardarlo questa cosa tra l'altro non è assolutamente sponsorizzata però io mi sento di consigliarvelo parlando di sponsor però facciamo che questo episodio è sponsorizzato da me stessa nel senso io un anno fa ho pubblicato un libro che si chiama Non Sono Femminista ma è disponibile sul sito di Edizioni Underground l'idea principale era di pubblicarlo per poi venderlo agli spettacoli poi quest'anno non ci sono stati spettacoli quindi l'ho praticamente venduto solo online e se volete supportare un artista che non lavora da un anno trovate il libro Non Sono Femminista ma sul sito di Edizioni Underground oppure se preferite potete anche ordinarlo dal vostro libraio di fiducia perché è anche disponibile in alcune librerie io vi ringrazio e vi ricordo che se siete degli appassionati di true crime oltre a questi miei video ogni due settimane io faccio anche un podcast che si chiama Crime and Comedy insieme a Marco Champier dove parliamo di serial killer e di casi di crime un pochino articolati che quindi richiedono più tempo per essere analizzati con questo io vi saluto vi ringrazio e alla prossima